Musica Ma allora io devo dire che sono molto soddisfatto della fiera, mi sembra che ci sia stato un buon afflusso già dal primo giorno, devo dire che le persone che quotidianamente entrano allo stand sono molto interessate, quindi non si tratta dei soliti curiosi, quindi i segnali sono sicuramente positivi, siamo motivati a iniziare questo 2016, se questi sono i segnali siamo soddisfatti, siamo contenti.